Perché questa è la forza del mondo del lavoro. Viva il sindacato, viva CBL, CISL e UILS. Grazie a voi, viva le lavoratrici e i lavoratori, viva i giovani e viva gli studenti. La vostra lotta è la nostra lotta e insieme, lavoratori e studenti, cambieremo questo Paese. Grazie. E un altro ancora grandissimo applauso dopo gli studenti. Perché questa è la forza del mondo del lavoro. Viva il sindacato, viva CBL, CISL e UILS. Grazie a voi, viva le lavoratrici e i lavoratori, viva i giovani e viva gli studenti. La vostra lotta è la nostra lotta e insieme, lavoratori e studenti.